Introdotta con legge del federalismo fiscale e municipale dal 2011, la tassa di soggiorno è quell'imposta comunale il cui costo varia da città a città che gli albergatori richiedono a turisti e viaggiatori che alloggiano nelle strutture ricettive. Tassa che viene utilizzata dai comuni per finanziare opere di ristrutturazione e mantenimento del patrimonio culturale. La questione è stata oggetto di un incontro a Cisternino con gli assessori al turismo dei comuni della Valle d'Itria, Federalberghi, Anci e Regione Puglia. Ascoltiamo. Io penso che ogni comune debba decidere sulla base della propria realtà e sulla base degli interessi ponderati di tutte le categorie. E cioè, innanzitutto deve decidere se è una città turistica, se ha un notevole flusso e se ha una notevole mole di strutture ricettive. In quel caso può valutare davvero se inserire la tassa di soggiorno. Ma una volta che decide di applicarla deve tenere conto sia degli interessi degli operatori, sia degli interessi dei turisti e sia degli interessi propri, diciamo, come città. Questa ponderazione degli interessi è fondamentale perché soltanto se la tassa si applica a tutti e non ci sono poi i furbi che non pagano e alla fine pagano solo gli alberghi e solo se questo non avviene, diciamo, davvero si applica una tassa giusta. E l'altra questione è la necessità di applicare questa tassa per servizi nei confronti dei turisti e nei confronti dei cittadini. Cioè deve migliorare la qualità dell'offerta ricettiva. Il nostro obiettivo è comprendere cosa fare della tassa di soggiorno. Cioè noi abbiamo bisogno, i comuni hanno bisogno di risorse. L'incontro serve proprio a questo, serve a capire. Se avessimo le idee chiare ovviamente non avremmo fatto questo incontro. Nella Valle d'Italia ci sono sei comuni che hanno firmato un protocollo di intesa, tre dei quali hanno già la tassa di soggiorno, tre non ce l'hanno. A noi serve comprendere come dobbiamo fare turismo. Per fare turismo si fa promozione, accoglienza, valorizzazione. Per fare questa roba c'è bisogno di soldi. Oggi quando facciamo i nostri conti per le vacanze, quando facciamo i confronti online, quando consultiamo i portali, le persone sono abituate a fare i conti anche sull'euro, sui 2 euro, sui 3 euro in più al giorno, che moltiplicati per una famiglia di 4 persone fanno 12 euro, che moltiplicati per una settimana di vacanza fanno quasi 100 euro. E' stato più certi che per 100 euro una persona decide di andare in una destinazione piuttosto che in un'altra. Quindi bisogna fare attenzione anche a questo. Introdurre l'imposta può significare anche allontanare il turista. Noi non siamo per nulla sicuri che questa imposta si riscuota. Noi di fatto stiamo aumentando il prezzo del servizio e spesso aumentiamo il prezzo senza aggiungere valore. Questo può diventare un boomerang. Grazie a tutti.